allora a parte il fatto che sono incazzatissimo 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 ma che cazzo stanno facendo ma ci rendiamo conto che la biblioteca di parista è chiusa porco due ma che no ma no ma io no io sono qui che aspetto come un falco come un falchetto come un falchetto io sono qui pronto come un falchetto in any case tell me if there is in the world one more figo than me ditemi voi porco dio se ce n'è un altro più figo di me al mondo porco dio no perché unisco alla bellezza estrema l'autorevolezza porco dio diciamo in qualche modo ecco 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 ecco